Il Comune ha presentato il primo piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, convinti che l'accessibilità sia una delle necessità da garantire in città. L'ente da tempo si era dotato di un disability manager. Il piano non ha una vera e propria copertura finanziaria al momento, perché è un documento che poi dovrà essere tradotto nel concreto e che dovrà passare per il Consiglio Comunale. L'aspetto complesso sarà insomma metterlo in esecuzione, ma andava realizzato anche da un punto di vista burocratico. In una città come l'Aquila non è semplice. Il 60% degli edifici sono vincolati. Si è fatto per questo un censimento molto approfondito. Abbiamo adottato finalmente in giunta questo che ha a tutti gli effetti un piano, un piano che poi va attuato. Adesso faremo tutto il percorso, poi verrà approvato dal Consiglio Comunale e non è un documento che rimane sulla carta, poi attraverso l'individuazione di risorse materialmente bisognerà dare corso agli interventi e agli investimenti che consentiranno un'accessibilità più adeguata alla nostra città. Il piano è stato fatto in collaborazione con l'Università e con i ragazzi dell'Istituto da Vinci Colecchi che hanno eseguito rilievi a Palazzo Fibioni ad esempio. Il piano ha previsto una mappatura di oltre 600 punti per capire come intervenire e rappresenta uno strumento di programmazione. L'abbattimento delle barriere architettoniche penso sia uno dei temi fondamentali che vada affrontato quando si fa un progetto. Ci sono dei limiti da rispettare come i gradini che non devono superare i 3 cm perché devono poter salire sul gradino da soli e anche le molle delle porte devono essere tarate con una resistenza abbastanza bassa perché la persona non disabile che si trova magari sulla sedia a rotelle deve riuscire ad aprirla e deve avere l'ingresso facilitato a qualsiasi attività commerciale alla quale vuole accedere.